Buonasera a tutti e bentornati con il canale di Antestardware per un nuovo video riguardante le schede video per quello che riguarda le schede video di fascia bassa attuali perché? Perché da poco ci sono delle novità da parte di Intel e dovremo andare a vedere se sono convenienti le tre schede video di cui parleremo oggi sono per quanto riguarda la parte Intel la più interessante che è la A580, l'Intel Arch 580 che ha un prezzo che scende sotto i 200 euro e la A750 che ha un prezzo che comunque ad oggi si aggira fra le 200 e le 220 euro l'unica concorrente diretta che hanno queste due schede è la RX 6600 di AMD perché comunque Nvidia in questa fascia di prezzo ci può offrire solamente una 3050 niente di più se guardiamo sul nuovo già la 4060 liscia arriva sulle 300 euro anche più quindi è fuori è fuori fascia allora l'Arch 580 è una scheda video prodotta a 6 nanometri da Intel che ha 24 x-core, i render slice sono 6 e 24 tracing unit un po' di meno di quello che è la 750 ed ha un TDP di 185 watt teoricamente a 384 le chiamavano pepeline, sono x-vector engine oggi e comprende 8 GB di RAM con un basso di 256 bit e 512 GB di banda ovviamente ha il supporto per tutto, re-tracing e robe varie per quello che riguarda invece la ARC 750 abbiamo al posto che 24 28 x-core unit e 28 x-ray unit quindi poco più e un TDP di 225 watt supportano tutti i tipi di encoder come per quello che riguarda le nuove NVIDIA e il resto allora perché la cosa interessante è perché Intel ha avuto un approccio diverso con la costruzione delle proprie schede video benché molto più acerba di AMD ha saputo gestire molto meglio il discorso del re-tracing compute e difatti siamo a livello di NVIDIA come performance in re-tracing questa è una cosa molto importante perché ci permette anche con una fascia bassa di godere un po' di quel re-tracing che AMD non può perché AMD praticamente perde di due terzi le performance attivando il re-tracing mentre sembra che Intel non lo faccia andiamo a vedere quindi le proposte di Intel e quello che fanno rispetto alla AMD quindi possiamo cominciare da dei benchmark sintetici partiamo da Fire Strike di 3D Mark dove vediamo 28.000 punti quindi 31.000 di graphics core per la A750 27.000 di graphics core per la A580 e 22.000 di graphics core per la RXI16 quindi diciamo che come potenza bruta quindi come forza senza andare a vedere troppo il driver o che altro entrambe le evoluzioni sono superiori rispetto ad AMD da RTX 12, Time Spy abbiamo una situazione che è praticamente identica con 10.000 di score per la A580 12.688 per la A750 e 7.749 per la RXI16 che praticamente è l'ultima e si perde dalla prima praticamente quasi la metà che è veramente tanto come boss contando che le schede hanno una differenza di prezzo di un paio di decine di euro il nuovo benchmark di 3D Mark a Steel Nomad ci dà i stessi risultati con la RXI16 che è l'ultima con 1469 punti penultima la A580 con 2212 punti e prima la A750 con 2666 punti che è quasi il doppio rispetto alla RXI16 quindi in tutti i test del 3D Mark praticamente la A66 è l'ultima Speedway test praticamente per quello che riguarda il compute con Ray Tracing abbiamo praticamente lo stesso identico di Variant Performance con 1360 punti per la RXI16 2000 per la A580 e 2063 per la A750 quindi in tutti i quattro i test che ci fornisce il 3D Mark per le piattaforme più nuove abbiamo sempre gli stessi risultati con la RXI16 che è praticamente ultima la A580 che va sopra la RXI16 di un buon 60% e la A750 che va sopra di un 80% e fino a qui ci siamo i test sintetici ci fanno vedere la potenza delle soluzioni Intel Arc però non è sempre così perché se noi andiamo a vedere le piattaforme di gioco la cosa è ben diversa partiamo da partiamo da The Hat Loop dove la prima è la A750 con 109 frame medi 98 frame medi per la A580 e 89 frame medi per la RXI16 qui il divario è molto minore come vedete c'è un 20% circa fra la più lenta e la più veloce e un 10% anche meno fra la A580 e la RXI16 quindi il divario si abbassa molto rispetto a quello che era il divario che abbiamo visto sul 3D Mark posso pensare che questo sia dovuto anche a un discorso di ottimizzazione dei driver dove era mai MD che non è comunque la top in ottimizzazioni ma è tanto più avanti far l'altro The Hat Loop non è neanche supportato pienamente dalle schede video Arc e infatti lo dice in fase di avvio infatti mi selezionava la Vega la scheda video integrata prima di selezionare la Arc quindi ci sta forza Motorsport vediamo stranamente la Radeon 6600 in prima posizione con 52 frame medi seguita dalla A750 con 42 frame medi e la A580 con 40 frame medi le soluzioni Intel sono veramente molto vicine questo ci fa capire che i driver non sono ancora ben ottimizzati per quanto riguarda le soluzioni Intel e possono essere ottimizzate ancora di più perché in performance e in forza bruta su un DirectX 12 diretto come vediamo su Timespy va molto più forte non è lo stesso sui giochi a quanto pare la situazione cambia drasticamente nel momento in cui nello stesso gioco attiviamo il retracing abbiamo in prima posizione l'A750 con 30 frame con retracing attivo 24 frame per la A580 e 15 frame per la RX 660 che praticamente va a perdere quasi il 70% di performance in retracing mentre l'A580 e l'A750 perdono comunque un 30% di performance qui si vede la forza dell'ottimizzazione dell'architettura retracing sulle schede video Intel andando ad attivare l'FSR vediamo che l'RX 616 guadagna quasi 10 frame mentre le soluzioni di Intel praticamente non beneficiano della tecnologia FSR in questo titolo praticamente sono cappate a quel frame rate e non riescono ad andare più forte il retracing per quello che riguarda l'A750 la A750 non l'ho neanche provata perché già la A580 andava più forte di RX 616 dato che con la stessa architettura comunque farebbe stato inutile andare a provare l'A750 che ovviamente va più forte dell'A580 e abbiamo un aumento di performance del 10% di 3 frame contro i 29 della RX 616 attivando l'FSR su L-Blade vediamo che l'RX 616 riesce a fare 47 frame e l'A580 47 frame comunque ma attivando l'XSS cioè il super sampling di Intel comunque abbiamo delle performance ancora migliori 55 frame e comunque la qualità di immagine risulta molto simile non ci sono grosse differenze Horizon Forbidden West con l'A750 in testa con 53 frame RX 616 al centro con 48 frame medi e la A580 con 44 frame medi qui si gioca un 10% fra l'A6600 e l'A580 con l'A750 in testa attivando l'FSR 2.2 RX 616 in testa con 58 frame 56 frame per l'A750 e 47 frame e 8 per l'A580 che non è che prendano questo grosso vantaggio le ultime due provate con la XESS di Intel perché l'FSR 2.2 non era disponibile per l'attivazione con le schede video Intel su questo titolo Resident Evil 4 dove abbiamo in testa l'A750 con 79 frame medi la RX 616 con 71 e la A580 con 69 l'unica nota dolente che qui ha avuto l'RX 616 è che c'era parecchio shooter infatti c'era spesso del lag e avevamo dei momenti in cui il frame rate scendeva improvvisamente infatti lo vediamo sul frame rate minimo che era a momenti basso il problema è che non avevano le schede video Intel Arc luogo ottimizzato in maniera greggia come sappiamo il Ray Engine e di fatto anche attivando il Ray Tracing comunque i risultati sono gli stessi con l'A750 in testa l'RX 616 al centro con 57 frame e l'A580 con 52 frame con l'RT grafica al massimo comunque e questo ci fa capire che il motore grafico è ottimizzato bene infatti l'A6600 forse è uno dei pochi titoli dove non soffre troppo il Ray Tracing finiamo con Starfield dove abbiamo l'RX 616 in testa con 53 frame l'A750 con 33 frame e l'A580 con 30 frame praticamente fra la più lenta e la più veloce ci sono 5 frame di differenza che non ci può far preferire diciamo una scheda a un'altra soprattutto che quella che fa 5 frame in meno mi costa 20-25 euro in meno su 200 questo diciamo che è un dato di fatto ma penso che visto questo potremmo tranquillamente andare alle conclusioni al prezzo e ai consumi partiamo da quelli che sono i prezzi allora RX 616 si trova dai 200 ai 220 230 euro in vari lidi la A750 parte da 200 euro fino ai 240 230 la A580 in alcuni shop che è trovato online abbastanza affidabili si può cominciare a trovare dalle 180 175 euro soprattutto se andate a vedere sulla pagina di ImproSystem ha dei prezzi veramente interessanti per quanto riguarda questa scheda video consumi TDP dichiarato di 185 watt per la A580 la scheda non ha mai superato i 165 watt benché chieda due connettori Pisa Express 8 pin non so il motivo l'RX166 è la meno esota di corrente richiede 130 watt mentre l'A750 mi ha consumato un picco di 185 watt per quanto riguarda le temperature tutte e tre le schede a parte la A750 che era una founders erano delle versioni custom di ASRock e sono state veramente fresche nessuna scheda ha superato i 63-64 gradi durante i test in estate quindi direi che le temperature sono veramente ottime per quello che riguarda le prestazioni l'RX166 ovviamente è un ottimo è un'ottima scheda video per la fascia bassa però con l'avvento delle 580 e delle A750 perde parecchio terreno perché abbiamo delle schede video che hanno prezzi simili ma che fondamentalmente performano attualmente diciamo la 580 uguale in qualche punto meno in qualche punto più rispetto all'RX166 mentre l'A750 spesso va più forte di un 10 12% ed abbiamo comunque una situazione con dei driver veramente molto acerbi ce lo fa vedere il 3D Mark dove le performance sono nettamente superiori l'unica cosa buona dell'RX166 che abbinata a un processore MD spinge il processore più grazie al resistible bar cosa che non c'è per le Intel il resistible bar era attivato su tutti i test che abbiamo fatto e la rivoluzione è stata sempre in 1080p con i dettagli al massimo perché questo è il target delle schede 1080p se dovete comprare le targhette è quello non compratele per il 2K perché è inutile non sono schede fatte per quello personalmente io se dovessi fare un computer oggi consiglierei le soluzioni Intel consiglierei la A580 se si vuole stare con un budget sotto i 200€ per la scheda video se riusciamo a trovare intorno alle 200 210€ la A750 è il best buy anche perché abbiamo delle schede di fascia bassa che il retracing performano tanto 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 di più di una AMD ma veramente tanto siamo a livelli delle invidia in qualche punto forse anche meglio io vi consiglio le soluzioni Intel per la fascia bassa perché sono un passo avanti possono molto migliorare con gli aggiornamenti driver e comunque anche per tutto quello che riguarda il content creator sono migliori delle soluzioni AMD sicuramente sono migliori per l'elaborazione video sono migliori per lo streaming sono migliori per il montaggio video e anche per il CAD 3D sono molto migliori soprattutto anche per l'AI con il retracing ottimizzato quindi hanno molte più cose da dare rispetto ad AMD per quanto riguarda la fascia bassa della serie questo è il mio punto di vista ragazzi spero che vi sia piaciuto il video commentate qui sotto tutte le domande e ringrazio Giorgio Limprosystem per avermi mandato queste tre schede in test così da potervi fare questo video e vedere come è effettivamente la situazione il sistema di prova è stato un Ryzen 9 7900X con 32 GB di RAM DDR5-6000 e un Saberent Rocket 4 Plus da 1 TB giusto per dirvelo grazie a tutti ragazzi buona giornata e buona domenica da Lantas Hardware ciao ciao